Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi volevo fare un video un pochino particolare, come si può notare anche dal bellissimo outfit molto eccentrico che indosso, e volevo fare un video parlandovi dei miei musical preferiti. È una cosa che mi accompagna da sempre, i musical sono una delle mie piccole gioie della vita, quando ne esce uno nuovo mi informo sempre benissimo e poi me lo vado a guardare al cinema, spesso anche da sola perché a volte non trovo qualcuno con cui andare a vedere un musical. Però oggi volevo parlarvi dei, diciamo, di cinque miei musical preferiti, perché ne ho veramente tanti di musical preferiti, perciò ho deciso di fare magari un paio di video, magari tra un bel po', magari ne usciranno altri, ne scoprirò altri e me ne parlerò di altri, però per ora ve ne presento solo cinque. Allora, il primo musical di cui vi parlo è Grease, è stato, penso, il secondo musical che io abbia mai visto in vita mia. Il primo è stato, come praticamente penso di ognuno, tutti insieme appassionatamente. Altro grande musical, che però del quale non vi parlerò in questo video. Allora, Grease è un musical del 78, mi sembra, ambientato negli anni 50 in un liceo, quindi, insomma, tra adolescenti, e la trama è molto molto semplice, è una classica serie d'amore con le sue difficoltà. Ci sono Danny Zucco, che è il protagonista maschile interpretato da John Travolta, e io lì ho provato i miei primi, tipo, il mio primo amore verso un attore è stato verso John Travolta, poi ho scoperto che era diventato un po' grasso, e poi vi parlerò anche di un altro film, ma il mio primo amore è stato verso John Travolta in quel film, perché, oh mio Dio, cantavano, ballavano, avevano dei costumi bellissimi, io sono innamorata di quei vestiti, infatti è per questo che sto cercando di imparare a cucire, perché così avrò la possibilità di farmi i vestiti come diavolo voglio io, e non come impone la moda del momento, ma vabbè, questa è un'altra storia. Grease parla di questi due ragazzi che si sono conosciuti d'estate, Danny Zucco e Sandy, e lei è australiana, ha passato le vacanze estive in America, al mare, ma lei deve tornare, alla fine dell'estate deve tornare a casa sua, e Danny cerca di convincerla, insomma, a fare qualcosa di più, però lei non ci sta, e insomma, lei, poi si salutano, finisce lì, e ricomincia la scuola, Danny Zucco va a scuola, lui è il classico ragazzo, quello tipo il figo della scuola, tra virgolette, però si scopre che anche lei è rimasta in America, perché suo padre ha ricevuto una proposta di lavoro lì, e perciò è rimasta in America, ma lui ancora non lo sa, e lei soprattutto non sa che lui è in quella scuola, perciò ci saranno una serie di eventi che li porteranno poi a rincontrarsi, ma lui non vuole far vedere di avere un lato tenero, e il tutto quanto è cantato, e penso che sia una delle mie colonne sonore preferite, infatti ce l'ho sempre bella presente nel mio telefono, e la adoro, quando sono triste me l'ascolto, perché mi mette di un buon umore asturdo, la mia canzone preferita è You're the one that I want, l'ultima praticamente, la penultima canzone che cantano, insomma quando Danny rincontra Sandy, Sandy tutta vestita alla moda degli anni 50, quindi con tutti i capelli cotonati, con i pantaloni di pelle aderenti e un top rosso, c'è amore a prima vista per quei vestiti, infatti vi giuro il mio sogno è riuscire a vestirmi così e a portare i tacchi, anche se non ci riuscirò mai, perché di solito quando mi metto delle scarpe che hanno un minimo di tacco, cado, perché sono molto maldestra. Però quello è stato uno dei primi musical che ho visto, è uno di quelli che mi ha fatto appassionare proprio al genere, infatti poi, negli anni, ho scoperto altri musical, soprattutto perché sono usciti al cinema e quello che ho visto al cinema e mi è piaciuto di più è stato Airspray, con Gian Travolta come madre della protagonista, fa un sacco ridere, è la storia di questa ragazza, sempre ambientata negli anni 50 a Baltimora, con ancora la segregazione razziale in America, è un film all'apparenza molto leggero, che però tratta appunto il tema della segregazione razziale in un modo molto intelligente e molto d'effetto. È la storia semplice di questa ragazza, un po' in carne, che vuole entrare a far parte del programma pomeriggiano locale dei giovani, però essendo grassa la mamma non vuole che lei entri a far parte di questa cosa, perché pensa che possa farle male un rifiuto e tutto quanto. La storia appunto è di questa ragazzina che riesce ad entrare nel programma televisivo e alla fine del film, insomma, si riesce a sbaragliare questa segregazione tra bianchi e neri. I protagonisti sono Tracy, la sua amica, e Link, interpretato da Zac Efron. Chi è stato adolescente come me all'inizio degli anni 2000 ha visto High School Musical e sono quei film che, tipo, non dimenticheremo mai. E Zac Efron è stato l'amore della nostra adolescenza, ammettetelo, tutte le ragazze, e anche magari qualche ragazzo, ma è stato l'amore dell'adolescenza di tantissime persone, compresa me, anche se non si direbbe. Però diciamo che Zac Efron ancora adesso mi piace un sacco quando canta e balla e in quel film è fenomenale, soprattutto con quel ciuffetto alla Elvis, ma è molto molto simpatico, anche perché non è una storia pesantissima, però comunque tratta dei temi molto 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 importanti, quali la segregazione naziale, la differenza di classe sociale, si nota moltissimo anche quello, e è molto simpatico, è un film per ragazzi, credo, non rivolto propriamente a un pubblico adulto, però è molto molto bello, ve lo consiglio. E la colonna sonora anche è molto simpatica, perché le canzoni sono proprio in base al momento del film, e quindi proprio la canzone sostituisce un momento parlato del film. Un altro dei miei musical preferiti invece, questo l'ho scoperto per puro caso, perché lo davano in televisione, è Dreamgirls. Ho scoperto da pochissimo che in realtà non è un film all'originale, ma è un musical di Broadway, del quale ho ascoltato la colonna sonora ed è wow! Il film è interpretato da Jennifer Hudson e Beyoncé, è la storia di questo trio di cantanti di colore, che dagli anni 60 arrivano agli anni 80, sfondando nel panorama musicale statunitense. È la storia anche di un abbandono e di una modifica della loro storia personale, perché a un certo punto il personaggio interpretato da Jennifer Hudson viene messo da parte, perché non bella, perché non inerente ai canoni della bellezza di quell'epoca, infatti era un pochino più rotondetta, e pian piano nella storia si vede come lei cerca di tirare a campare, e non vuole cantare perché si sente come... si sente male ogni volta che prova a cantare, però alla fine il suo agente riesce a farla cantare, infatti lei aveva tagliato i ponti con tutti il suo fratello, le sue amiche, appunto per il fatto che era stata messa da parte, e il film è veramente toccante. Cioè si vede la musica nera che Strada ha fatto dagli anni 60 agli anni 80, si vede proprio il passaggio di mentalità negli anni, si vede la differenza di società, è molto molto bello. Ed è diventato veramente subitissimo uno dei miei film preferiti, anche perché la voce delle donne di colore è una delle voci che io più adoro in assoluto, e la musica che c'è in quel film è eccezionale, la potenza di voce delle attrici, la potenza delle parole della musica che fanno è fenomenale. E racconto un pochino la nascita dell'R&B, quello che ancora a oggi ascoltiamo, e che io non ascolto più perché ascolto quello di una volta, quello di adesso mi fa altamente schifo. E anche questa colonna sonora è una delle mie preferite, infatti su Spotify la ascolto molto 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 spesso, perché è veramente tanto 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 d'effetto. A me vengono i brividi quando ascolto quella musica, ma proprio i brividi mi vengono e mi stanno venendo anche adesso solo al pensiero. Ve lo consiglio tantissimo, dura un bel po', ne sembra duri sulle due orette qualcosa, però è veramente un bel bel film. C'è anche Eddie Murphy all'inizio del film, però è un personaggio un pochino più secondario, tra virgolette. Cioè è sempre importante, però è un pochino più secondario. Un altro musical che però è molto famoso, non so se è proprio considerabile un musical, è Iglesias Brothers. Quello è proprio uno dei musical che hanno fatto la mia storia. Mio papà mi ha regalato il DVD quando ero una ragazzina, mi ha portato a casa questo DVD e mi ha detto guardalo perché è un film molto molto bello e, oh mio Dio, oltre al fatto che fa ridere dall'inizio alla fine, esagera su tutte le cose su cui gli americani esagerano, insomma, prende in giro tutti i lati della società americana e in più, appunto, è un musical. La storia è semplicissima. Ci sono due fratelli, appunto, i Blues Brothers, che uno dei due è in prigione perché non aveva pagato un debito, quindi è finito in prigione, e l'altro fratello va a prenderlo quando esce di prigione e poi cercano di rimettere assieme la vecchia band, no? Però tutti quanti fanno lavori diversi, poi ci sono quelli che hanno cominciato a suonare nei bar, poi c'è quello che fa il cameriere, quello che è andato a vivere con la moglie a un negozio, a un bar dove appunto fanno da mangiare. E insomma, una delle scene più belle è quando cercano di investire i nazisti dell'Illinois. Sono in coda perché c'è una manifestazione di questi nazisti, uno dei due fratellini dice io li odio i nazisti dell'Illinois e accelerano e cercano di prenderli tutti sotto e poi anche questi nazisti dell'Illinois diventano uno di quelli che poi li inseguiranno alla fine del film. Cioè, è bellissimo e la musica è eccezionale. La maggior parte di loro, infatti, sono veramente musicisti, quindi è anche un film abbastanza realistico sul fatto che questi suonino gli strumenti. È una grandissima orchestra blues, quindi il blues la fa da padrone. Però è uno dei miei musical preferiti di tutti i tempi, i Blues Brothers, e se non l'avete mai mai visto, vergogna, perché appena lo vedrete, vedrete la luce e quando lo vedrete capirete questa citazione. L'ultimo musical, invece, di cui vi parlo è un musical molto più recente ma di cui non ho mai sentito nessuno parlare. Sembra quasi che sia una cosa da dimenticare, però è uno dei musical più belli che ci siano. Avete presente i Beatles? Prendete le loro canzoni, prendete i personaggi delle loro canzoni e create dei personaggi dalle loro canzoni. Il film ha come personaggi, tutti i personaggi di quel film hanno i nomi tratti dalle canzoni dei Beatles e ogni qualvolta succede qualcosa, un personaggio canta una canzone dei Beatles che ha a che fare con lui. È spaziale, anche perché veramente io non mi aspettavo che dei reattori comunque molto giovani riuscissero a fare un film del genere. Cioè, è bellissimo. Quindi prendete le canzoni dei Beatles, mettetele in un musical, ma non in loro musical, prendete i nomi dei protagonisti delle canzoni dei Beatles e dateli ai protagonisti di questo film, fategli cantare delle canzoni. Ecco, avete il film della vita, è ambientato chiaramente negli anni 60, durante i conflitti per la guerra in Vietnam, i conflitti degli studenti contro la guerra in Vietnam, il conflitto del Vietnam. È qualcosa di speciale quel film e fa parte di... fa parte veramente di me, come tutti gli altri musical. Non so per quale motivo io abbia questa passione assurda per i musical, però il canto e la musica per me sono qualcosa in cui rifugiarmi quando sono molto triste e grazie ai musical riesco a magari passare dei momenti bui della mia vita, perciò io ve li consiglio a tutti quanti, i musical sono veramente la gioia, secondo me. E quindi, ecco, io non saprei che altro dirvi, anche perché non sono dei libri, quindi non posso fare delle vere e proprie recensioni o dei veri e propri commenti, dovrete vederli. E in caso, se vi va, potete discuterne qui sotto nei commenti e io ne farò molto volentieri parte. Detto questo, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, se ti piacciono i contenuti che hai visto, iscriviti al canale e attiva la campanella, così da venire notificata ogni volta che io pubblicherò un video, sono molto brava, non ne pubblico tanti, non ti darò tanto fastidio. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti.